www.feyyaz.tv ah, mi metto ad andare alla banca centrale, legge cosa sta 2-1, bravo si, mi metto in banca centrale e te lo cambiano ma il più per i 2-1 no, a me si mc i ma scusa, tu vuoi che basta che vai in banca e te lo cambiano? si, mi metto ad andare alla banca centrale, non so la veste ah, mi metto ad andare alla banca centrale, legge cosa sta ecco, mi metto ad andare alla banca centrale e te lo cambiano ma il... si, mi metto ad andare alla banca centrale e te lo cambiano si, mi metto ad andare alla banca centrale e te lo faccio pancetta più pancetta più non so la veste duom pancetta più è vero? ah, scendo a pancetta più è vero? no è un bufo eh pancetta più è vero pancetta più è vero è vero è vero non è vero è vero è vero pancetta più probabilmente per il proprio giudice ma saspen poi si può essere giudice io si sono guardatezza e guardatezza sono filmati prima, lo versi e lo filmà probabilmente per il proprio giudice ma saspen il soggetto cos'è? non ne ho cos'è questo? hai freddo il tuo giù? no, non sei lo vuole sono arrivato qua con la cuba per il cisse sono arrivato qua con la cuba per il cisse troppo del quarto cos'è? Noi andiamo a fare pancetta, ma fino al primo tempo si ferma, eh? Hai fatto qualche cubo della chissa? Sì, è bello. Vengono a fare? Andiamo. Non trovo le risposte. Sarà, vedi? Non cazzo, non cazzo. 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 Noi andiamo a fare pancetta. Ma fino al primo tempo si ferma, eh? Alla sera andiamo a fare. Vi facciamo pancetta. Ah, voglia di tirare un pugno. Sì? È vero? Lo dobbiamo fare? Dai, dai, dai. Andiamo. Che me lo tireremo. Sarà, vedi? C'è la faccia capire. Voglia di tirare un pugno. Voglia di tirare un pugno. Voglia di tirare un pugno. Se tu poi scorri. No, dopo a fin il primo tempo ti dico una cosa. Panciata Pio. No, no. Alla sera andiamo a fare. Andiamo a dire una cosa. Voglia di tirare un pugno. Dice, ti devo parlare, prima di il tuo tempo. Ti tirare un pugno. Non voglia di tirare un pugno. Non voglia di tirare un pugno. Ti facciamo pancetta Pio. Dice, ti devo parlare un pugno. Dov'è un'automessa cosa importante, un ingaggio. Buon'ugaggio. No, dopo al primo tempo ti dico una cosa. Panciata Pio. No, no. No, poi 10, magari sarà. Devo dico una cosa. Vai capirò. Dice, ti devo parlare, prima di tutto il tuo tempo. Dove lo fai? Dove lo fai? Il cappellino non si tocca Dessi, devo andare a farlo Dove è una cosa importante, mi ingaggio Ci sono un gusto mio E' il cappellino No, adesso dov'è stare La bisca in testa Vai il cappellino Dove lo fai? Dove lo fai? Dove lo fai? Il cappellino non si tocca Oh, eccolo Non si tocca Non si tocca Oh no Oh no Eccolo No, non si tocca Non si tocca Non si tocca Non si tocca Bello Non si tocca Un pom No Scala qui Non si tocca Non si tocca Sotto le panchine te lo prendo Oh no Pancetta D'acqua 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 Il cappellino D'acqua Non si oltre alle panchine Te lo prendo Oh no attacca tesoro, come va? sto facendo in panchina che sto facendo in parte di calcio non ho fatto perdere secondo partiero sul piano degli E3 no no è un tredicesimo ti lo ricordi Filippo? no tesoro come va? ho finito sono in panchina che sto facendo in parte di calcio mi sono andato secondo portiero ufficiale a Lugia 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 anj a Lugia ho vinto a P Somali Ma come va il lavoro lì? Quella altra ragazza lì che è venuta a fare il cappuccino che vuoi fare? Vabbè. Adesso facendo la preparazione con questa squadra qua speriamo bene. Francesco, se mi chiamano una volta per giocare, mi dicono che gioco di me i giorni. Ma perché avevo sbagliato? Dai raga, bravi! Ma come va il lavoro lì? Quella altra ragazza lì che è venuta a fare il cappuccino che vuoi fare? Io levo il Fed. Fedi non può segnare domenica eh? Non può segnare domenica Federico Marti. Ne va troppi? Non abbiamo sbagliato. Domenica non può segnare, basta. Sì, lo so, non può segnare domenica basta. Io levo il Fed. Fedi non può segnare domenica eh? Non può segnare domenica Federico Marti. Ne va troppi. Domenica. Domenica non può segnare, basta. Sì, non può segnare domenica. Sì, lo so, non posso segnare domenica basta. Dove esserci tu in porta nella tua parte. Dove giocare Federico? Tira. No Tu vuoi esserci tu in porta nella tua parte. Deve giocare a Fedorico. Deve levato il tesserino. Il problema è che non sono riuscito a collaborare. Saldoni! Deve chiederti quando la salva fattora? Sì, è subparso. Puoi cagarmi con la peli, uffa. Durante domenica questa la barriquina. Non sono riuscito a collaborare. Saldoni! Deve andare a fare le fattore. Saldoni! Non TP. Non si tratta. Un bello! Un poco λs! Inizio alle volte quindi posso volermi accompagnarti a piedi, così non abbranzare la macchina Però se vuoi... Ecco io te lo dicevo, io te lo dicevo... Te lo dicevo perché eri più conga Oh, comunque a prima cosa... Ti vedo, io ti salto proprio sempre a che faccia qua Io te lo dicevo anche la prima volta che ho avuto più Ho capito che ho detto Tanto io inizio alle volte quindi posso volermi accompagnarti a piedi Non è capito, non è capito, non è capito Certo io te lo dicevo... Te lo dicevo perché eri più comodo Dai, tutto proprio No, no No, io te lo dicevo non è più comodo No, no Ho capito che ho detto Certo io te lo dicevo... Io te lo dicevo... Io te lo dicevo... Te lo dicevo perché eri più comodo Vedi? O no? No, ma io te lo dicevo perché sei più comodo da casa mia Pagliarmi un po' di più Da casa tua devi uscire alle sei e me... Da casa tua... Da casa tua... Da casa tua esci alle sei di casa, immagini Da casa tua... Da casa mia può uscire alle sei e mezza... In mezz'ora sei via piedi... Da casa mia può uscire alle sei e mezza... In mezz'ora sei via piedi... Da casa mia può uscire alle sette minuti ancora Uffa... voglio rimediare tutto già Volo! 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 Vado! Vado! Grazie! Un'altra, un'altra! Ma quell'altra ragazza è qui quindi non l'hai qui Stai visto che ti avevo detto Sì Magari fattura di sera Sì 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 Mi sa bloccato alla videocamera Comunque si 20 Ascolta Abbiamo 10-12 e adesso lascio il moto adesso a Tommy se ti mando un messaggio della buona notte d'acqua adesso quando finisce la partita che stanno in metà ti mando un messaggio e ricordati che ti vedo tanto bene hai capito cosa ho detto? si va bene un bacione ti ha la tesoro per il palo yes si hai detto di sì domenica non quella solita è una che mi ricevi no? con te allora ecco qua non c'è cazzo ho parlato con il palo non c'è cazzo ho parlato con il palo non c'è cazzo ho parlato con il palo con la doccia non lo so ripa 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 non tutti i bassi non tutti i bassi ne va più alto più alto non c'è cazzo ho parlato con il palo è andato a dormire la tua amica si sei contento? lei è convinta che viene a dormire ma io sono convinto che viene a trombare Sì? Ma tu l'hai già fatto con lei o no? Sì. È brava. Brava? È migliore o no? Sì, è brava. L'hai convinto a dormire? Vabbè, l'hai tutta la sera. Perché è freddo, è sceso. Qua sono due gradi. Beh, per sicurezza ti faccio una chiamatina attorno alle 10. Una chiamatina. No, non so che. Sì, non lo doggare la gamba. Sì, non lo doggare la gamba. Sì, non lo doggare la gamba. Sì, non lo so, poi va a chiedere. Sì, non lo so, va a chiedere. È vero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mentre ti hai cercato di mordere? Siiii Ti ho masticato? Quasi Ho fatto una manata sul... E lei? Ha scappato a te Non devi farlo Ma quando imbraccio a Filippo o a te no Questa voce... Prende per terra Ma perchè? Si, si incavola eh! Ti ho masticato? Ti ho masticato Ma, che zani? E' un'azza E' un'azza Di Ma Un'azza 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 Vado. Vado. Facchetta bello, questo mi fa bene. Haha. Che mai mi fai in tutto il doppio? Ti sta guardando. Non è venuta a fare. Ok. Spetta. C'è tanto da fare un pittà Il freddo C'è dimostrato mica il domenica magari Magari c'è la domenica o domenica Sabato a pranzo ci siete? Si Diremo anche Filippo questa volta Se vi piace il sushi Si Che è lì? E poi saboteamo andiamo subito Ah Mi devo dire che mi è affidato Mi devo dire che mi è affidato Mi devo dire che mi è affidato Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Era il piede all'interno fatta. Sì. E' un peco. Quei che stoppa la cosa. Tira, tira, tira di prima. Cipiati ha visto? Hai visto che cipiati? Cipiati ha visto? E due? Cipiati. Di Garbo. Marsali non lo fa giocare? Chi? Marsali. Chi? No. Si vede che non è ancora tesserato. Cipiati. 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 Ho fatto una pancietta, facciamo una pancietta. Cipiati. Che male? Sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Oh, si è mancato poco. Lo vedi? Dov'aspetta il frà. Beh, vai in doccia comunque. Stai frio io. Ho giubbatto? Lo sape! Andre! Andre! È un bel labrino, fa fa al labrino. Oh, buona. Faffa, fa al labrino. È un bel labrino. Si è bella, vieni a sopra. questo è un cambiato dai due contro due Questa? Questa qua la sgonfia Andre tu non sai neanche cosa sono due piedi Andre Luigi Vai a spegnere il campo da red Prisa Bravo Andre Bravo Andre Questa è da fuori gioco buono Andre Sei salito bene Andre Sei salito bene Taranto Il periodo non era fuori gioco questo gol? Non lo fai l'hai visto Dai ero davanti Anche se fosse stato fuori gioco di dieci minuti Hai rotto le palle Vabbè 4 a 2 cazzo bene Tanto è una mi chiedevole questa no? Si 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 non mi chiedevo Che regalò Ma unser Com'è nuì Na fuori giù Si sta cansino I'm has toccano il traccio, il suffetto E' anabando a particare Anabando a particare Anabando a particare e 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 faccio una corsa alla macchina faccio una corsa alla macchina faccio una corsa alla macchina e faccio panciata più faccio panciata più a la macchina bravo e 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 tanto e 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